e quindi ho aperto due account, loro non si sono accorti di niente se io faccio andare un amico o qualcuno, loro lo scoprono o no? magari di tanto e tanto pure il mio cugino può andare ah quindi tu puoi andare, comunque l'importante è che c'è il telefono e la borsa e la bicicletta e poi magari puoi mandare pure qualcun altro se non lo stai facendo stessa borsa, stesso telefono e stessa bicicletta, cambiano solo i rider, cioè i lavoratori è il caporalato 2.0 che emerge da un'inchiesta del Corriere della Sera sul mondo dei rider chi non ha il permesso di lavoro sostituisce o addirittura paga una percentuale per usufruire dell'account di un altro mi fingo rider e chiedo a questo ragazzo se conosce qualcuno che vuole prendere il mio account per il prossimo mese mi chiede se ho anche la bicicletta bicicletta senza le marce gli strumenti per associare l'utilizzo del telefonino con l'applicazione al soggetto con cui si stipula e si formalizza in qualche modo il rapporto di lavoro esistono col singolo contratto pagato tra l'altro miserabilmente si comprano l'intera filiera delle relazioni del soggetto che hanno in qualche modo contrattualizzato abbiamo chiesto a una tra le più importanti società di delivery se fossero a conoscenza di questo fenomeno questa la loro risposta Deliveroo ha un approccio di tolleranza zero sul caporalato prende estremamente sul serio la lotta alla illegalità indagherà approfonditamente su ogni elemento che possa emergere collaborando con le autorità i lavoratori scaricano un'app e automaticamente gli arriva sull'app stessa un contratto da sottoscrivere e rinviare all'azienda registrandoti, sottoscrivendo un contratto in maniera digitale senza che nessuno ti abbia mai conosciuto fisicamente sicuramente lascia spazio anche alla vendita poi delle licenze e degli account aperti Marco ha aperto due diversi account lavorando contemporaneamente per entrambi siccome ho anche una casa in un paesino al mare allora ho pensato non apro un altro account in maniera tale e quando sto giù se voglio lavoro pure lì e quindi ho aperto due account allora non si sono accorti di niente grazie 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 grazie